Con un emendamento fatto da me e dai miei colleghi della Commissione di Agricoltura in finanziaria abbiamo introdotto una norma molto semplice apparentemente ma che era necessaria. Cioè che l'agricoltore possa raccogliere sul sedime di fiumi, dei torrenti, dei laghi e anche delle spiagge a seguito di eventi meteorologici una quantità di legna sufficiente alla propria attività ma sicuramente molto utile all'ambiente perché io ho vissuto nel mio territorio un'alluvione a settembre e vi posso garantire che la cosa più spiacevole oltre alla tragedia vissuta e ai morti di questa tragedia è stato sentire da parte degli allevatori e degli agricoltori la narrazione continua di tante multe prese nell'estate precedente all'alluvione per aver pulito e per aver raccolto il legname depositato sui fiumi. Lo stesso legname che poi 15 giorni dopo la prima forzata pioggia ha ostruito i passaggi dell'acqua naturale e quindi ha favorito l'alluvione stesso. Quindi questo emendamento mirava a creare la possibilità in modo banale e semplice agli agricoltori, imprenditori agricoli, anche pensionati agricoltori di poter pulire liberamente senza chiedere il permesso al genio civile, ad altre autorità competenti la possibilità di raccogliere il fiume senza essere multati. E poi c'era un finanziamento nella stessa finanziaria in quell'emendamento a mia firma e altri colleghi di 500.000 euro per poter creare anche dei progetti relativi alla conoscenza, alla formazione e quindi oggi grazie all'impegno non comune del Ministro Loro Brigida siamo qui in tempi record a presentare un decreto che vede l'azione concreta di questo mezzo milione messo a disposizione di chi? I soggetti beneficiari sono le imprese agricole, sono gli agricoltori in ogni forma associata e singola, anche quelli pensionati, sono le associazioni di categoria entro 15 giorni il Ministero poi farà le procedure di pubblicazione di questo bando relativo al decreto i beneficiari appunto sono gli imprenditori dell'organizzazione agricola e possono fare progetti che vedano la formazione, la comunicazione relativo e finalizzato appunto alla raccolta di legname nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde dei laghi, dei fiumi e sulla battigia del mare. Ovviamente devono essere conseguenti da attività straordinaria oltre all'emergenza dichiarata con decreto anche a quelle semplicemente dichiarate dall'autorità provinciale o regionale, gli allerte meteo, quindi diciamo che coinvolge grande parte del paese perché l'allerta meteorologica marina o fluviale o della pioggia ovviamente coinvolge gran parte del nostro terreno. Mentre invece, lo ribadisco, la norma generale che dice che gli agricoltori possono raccogliere vale per tutta l'Italia. Il contributo invece si limita alle parti dove c'è stato anche un evento meteorologico. Quindi su questo c'è stato non solo un impegno preso durante le tragedie, l'alluvione, gli impegni di campagna elettorale, ma c'è stata una risposta vera fatta prima in finanziaria e poi dal Ministro Loro Brigida con questo decreto che ribadisco ancora ringrazio per la celerità e per la solerzia con cui ho voluto intervenire.